... Provò a presentarmi velocemente, ho 44 anni, sono barese, sposata, mamma di due figli e mi danno la possibilità di essere sempre molto aggiornata rispetto a quello che ci sta muovendo intorno perché soprattutto quando si tratta di adolescenti ci mettono sempre in gioco e in discussione. E in gioco e in discussione ci dobbiamo mettere sempre perché ogni qualvolta pensiamo di essere arrivati nel nostro lavoro troviamo sempre un ostacolo, un muro, una difficoltà, un collaboratore che è insoddisfatto e lì crolla tutta quella che è la nostra architettura di convinzioni, crolla la passione, crolla l'amore che ci mettiamo quando facciamo il nostro lavoro. Trovo anch'io assolutamente pertinente la spilletta I love my job ma non devo essere soltanto io ad amarlo io devo fare in modo che ogni collaboratore dell'azienda possa amarlo anche quando si lavora in un'azienda che ha dei ritmi un po' stressanti quando parlo di azienda che ha dei ritmi stressanti mi riferisco al retail, alla GDO. Io lavoro per l'Euromerlen, ci lavoro da ormai quasi 16 anni, prima di l'Euromerlen lavoravo nel gruppo COIN quindi sempre comunque grande distribuzione, sempre sette giorni su sette, le aperture durante le festività e sapete questo che cosa possa significare nell'equilibrio non soltanto dei collaboratori che lavorano nelle aziende ma anche del management che lavora in questo tipo di aziende che occupano tantissimi collaboratori. Noi in Italia siamo soltanto in Euromerlen 7000 ma il mondo del commercio occupa una fetta importantissima del mercato del lavoro e noi dobbiamo essere capaci di avere quell'equilibrio che possa in qualche modo realizzarci sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale perché è inutile dirlo, una alimenta l'altra. Come si fa quindi a tenere ingaggiati questi collaboratori a fare in modo che quel clima interno di cui parlava Luigi poi diventi esterno, che si sia coerenti nel momento in cui si fa una ricerca all'esterno e che quindi si sia anche credibili nei confronti dei candidati. Bene, anche noi facciamo un'indagine di clima interno ogni anno e c'è una domanda di controllo che verifica se effettivamente il collaboratore è felice o no di essere in azienda. Il nostro tasso di felicità è circa dell'80% quindi comunque lo riteniamo molto buono nonostante la mission aziendale. C'è però una domanda di controllo al tasso di felicità che è legata a quanto consiglieresti ad un tuo parente o amico di lavorare in Le Romerlen. Lì c'è la vera risposta. Se c'è un gap importante, attenzione campanellino d'allarme perché effettivamente si si è contenti ma probabilmente non poi così tanto da essere degli sponsor, da essere degli ambasciatori dell'azienda fuori dal lavoro. Quindi vi suggerisco se fate questo tipo di analisi, se avete bisogno veramente di creare coerenza tra interno ed esterno, di pensare sempre a questo tipo di domande di controllo. Le Romerlen non è un'azienda italiana, è un'azienda francese di ormai quasi 100 anni, comincia nel 1923, poi nel 73 viene acquisita dalla famiglia francese di Meulier che hanno la maggior parte della grande distribuzione europea come proprietà condivisa nella famiglia, non è una società quotata in borsa. Qual è la mission che tiene uniti 70.000 collaboratori in tutto il mondo sotto tetti differenti? Perché noi non siamo le Romerlen ma poi siamo anche Brico Center, Brico, Manazodio, Weldom, a chi sono tantissime le aziende sotto il gruppo Adeo. Ma in comune hanno bisogno di sentirsi appartenenti a qualcosa di unico. Adeo significa andare verso e andare verso implica una grandissima capacità di saper condividere. Quindi tutta la nostra filosofia si fonda su dei pilastri che si chiamano pilastri della condivisione. Cosa sono questi pilastri della condivisione? Allora il primo è il pilastro del sapere. Che cosa significa condividere il sapere? Significa saper continuamente, costantemente dal primo giorno di ingresso in azienda di un candidato a cui già abbiamo comunicato tanto prima di arrivare alla firma del contratto tutto quello che è possibile conoscere dell'azienda, dai numeri conti economici del proprio punto vendita dell'azienda, degli altri più dell'Italia, dell'estero, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Che cosa voglio dire? Che nel momento in cui c'è un conto economico che regge, andiamo a vedere sotto quali aspetti, quali sono le best practices, su cosa possiamo copiare. Ed è proprio per questo che continuiamo a condividere, a dare una serie di informazioni alle nostre persone perché per noi è importantissimo il valore dell'umiltà. Coloro che sanno far meglio di noi è importante che abbiamo noi l'umiltà di andare a capire che cosa fanno di buono e a copiare che cosa fanno di buono. Condividere quindi significa saper comunicare, saper ascoltare, saper essere trasparenti, non aver neanche paura che le informazioni vadano fuori dall'azienda perché comunque stiamo parlando di che cosa? Di fatturati, di margini, di fornitori. Ma oggi non dobbiamo spaventarci di questo perché siamo in una società talmente aperta che comunque le fughe di notizia ci sarebbero. Quindi togliamo le barriere del controllo. Abbiamo proprio bisogno di avere un'azienda permeabile. Permeabile significa che tutto l'esterno possa entrare in azienda e l'azienda possa andare fuori da quelle che sono le mura. Mura del negozio, mura della sede. Proprio per essere veramente molto aperti ed arricchirci reciprocamente. Condivisione del sapere, ovviamente anche formazione. Non è informazione soltanto. La formazione è continua e la formazione è di consulenti, quindi di specialisti, ma è anche formazione tra pari, tra coloro che possono essere mentor, possono essere tutor di nuovi colleghi, ma anche una formazione fatta dai nostri stessi fornitori perché vendiamo dei prodotti che non produciamo e i nostri stessi fornitori hanno l'interesse di spiegare ai nostri consiglieri di vendita come vendere. Quindi la formazione è veramente a 360 gradi tra diversi interlocutori. Un altro pilastro della condivisione è la condivisione del potere. Quindi se so, posso, posso fare, ho un quadro di autonomia, ho la libertà, ho il diritto all'errore, posso sbagliare, posso anche cambiare errore volendo non fare sempre lo stesso errore, ma questo ci dà veramente quel quadro di libertà che permette di realizzarsi. Perché oggi le regole, le procedure non sono più riconosciute né dai millennials, ma neanche dalla generazione X, dai baby boomers, perché non siamo più credibili, siamo troppo ingessati, ci dobbiamo svecchiare e dobbiamo pensare a come adattarci al cambiamento. Le regole e le procedure possono esserci nel momento in cui agevolano la creatività, agevolano la voglia di fare. Quando imbrigliano, no, non va più bene, c'è qualcosa che non funziona. E quindi questo non permette alla persona di realizzarsi. Abbiamo detto quindi condivisione del sapere, quindi so, posso, se posso, quindi faccio, posso anche sbagliare, ma nel momento in cui faccio bene che succede? Ho la condivisione dell'avere. Condivisione dell'avere significa avere la possibilità, concretamente, di condividere una parte degli utili. Questo in forma collettiva, trimestralmente, le progressioni del negozio, che sono sempre trasparenti sulla intranet aziendale, vengono poi suddivise, redistribuite tra i collaboratori, che possono decidere se prendere quella parte di moneta contante in busta paga oppure investirla in azioni, perché i nostri collaboratori sono azionisti. Io stessa sono azionista dell'azienda perché investo il premio di progresso, quindi tutto quello che arriva in più rispetto al budget, per poter avere quel salvadanoio per il futuro, per i figli, che dà anche quella possibilità di trattenere all'interno dell'azienda i collaboratori con tanto know-how, tanta anzianità, che comunque abbiamo bisogno di preservare. È una leva anche che aiuta il turnover. Quando parliamo di condivisione dell'avere, però non c'è soltanto una forma collettiva, ci sono anche forme individuali, perché il merito non è soltanto legato ad un punto vendita, non può essere legato soltanto a 100-200 persone. Chi fa di più e chi fa meglio? Che succede? Bene, ogni anno c'è il classico processo che abbiamo tutti di valutazione e sviluppo, che permette poi ad ogni collaboratore di avere il riconoscimento di un merito. Merito che oggi chiamiamo preziosità. Oggi si parla di talenti. Il talento, se vogliamo, etimologicamente, è molto legato alle monete, quindi all'essere preziosi. E chi definisce se un collaboratore è prezioso per l'azienda o no? Sono i colleghi. Con la modalità di feedback a 360 gradi, abbiamo la possibilità di capire se effettivamente i nostri collaboratori sono o meno preziosi per il loro capo, per la loro squadra, per il contesto che vivono all'interno di un determinato territorio. Ed è veramente molto interessante a volte vedere come i collaboratori, un po' demotivati, si riaccendono nel momento in cui c'è un feedback da parte di un collega che invece riconosce la sua collaborazione, il suo essere sempre propositivo, la voglia di mettersi in gioco. E questo aiuta, immaginate, nelle dinamiche di squadra o quando bisogna fare i fantastici piani ferie o planning delle turnazioni domenicali in cui ognuno deve lavorare meno della metà delle domeniche dell'anno, ma comunque questo è un sacrificio, quanto aiuta nell'organizzazione del lavoro, veramente ad ingaggiare i nostri collaboratori. Oltre quindi a queste tre condivisioni che ripilogo del sapere, del potere e dell'avere, c'è la condivisione del volere. Volere significa poter disegnare la vision aziendale, quindi scrivere concretamente dove vogliamo portare l'azienda da qui a dieci anni. Quindi significa partecipare concretamente, attivamente, impegnarsi, non soltanto ad immaginarsela l'azienda, ma poi a realizzare quell'azienda che è stata disegnata. Oggi abbiamo visto infatti che cosa significa partecipare. Partecipare significa impegnarsi, non significa soltanto essere attivi in un momento di convivialità, di festeggiamento in cui si festeggia il budget raggiunto, o piuttosto il risultato eccezionale. Partecipare significa metterci la faccia, metterci il proprio, anche il proprio pensiero, soprattutto quando è diverso, soprattutto quando è una voce fuori campo, perché può aiutare a vedere gli aspetti da un altro tipo di prospettiva. Possiamo non concludere con la condivisione dell'essere, perché tutto questo, se non lo facciamo con un esempio, dal punto di vista manageriale, l'abbiamo già detto, siamo ridicoli, non andiamo da nessuna parte. Se tutto quello che abbiamo raccontato non viene agito in prima persona dalla prima linea manageriale, non possiamo raccontare nulla ai nostri collaboratori. proprio perché siamo noi i primi attori, i primi registi, e dobbiamo non soltanto spiegare loro e raccontare quello che va fatto, ma farlo in prima persona. Se non lo facciamo, crolla veramente tutto quello che vogliamo costruire con i nostri collaboratori. Questo per noi significa avere le persone al centro, la centralità della persona che all'interno, vista come collaboratori al centro, verso l'esterno, visto come cliente al centro. Quindi il nostro slogan, il nostro payoff verso l'esterno è di permettere al cliente di realizzare il suo progetto di casa nei confronti interni invece dei nostri collaboratori e di realizzare il loro progetto di vita. Grazie. 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 Grazie.